Sto facendo ancora fatica a realizzare questi ultimi tre giorni, sono successe veramente tantissime cose che mi hanno portato a Cagliari, a casa mia, di questo sono felicissimo e non vedo l'ora di poter ricominciare. Qua tutto è cambiato perché ovviamente Assemini è migliorata tantissimo, sono passate una marea di giocatori, grandissimi giocatori, io posso avere solo l'umiltà di poter intraprendere questa nuova avventura. È veramente un giorno particolare, pioveva di rotto, era l'ultima di campionato, è stata un'emozione che ricordo per tutta la vita, mai avrei pensato di poter rivivere queste emozioni con la stessa maglia addosso e di questo sono strafelice. È un rapporto veramente speciale che abbiamo avuto di lui, so cosa vuole lui da me, sono sicuro che sarà un'annata piena di pressioni, però sicuramente è bella da vivere. Appena mi ha chiamato lui con la combinazione di poter tornare a casa, penso che fosse il momento perfetto per tornare. Veramente è molto bello, la verità, i primi giorni quando è una nuova squadra sei un po' timido, magari conosci poca gente, qua sono tornato e conoscevo veramente tutti, dai magazzinieri, ai massaggiatori, a compagni, poi poter anche parlare in sardo per me è una cosa veramente nuova e bella da fare. È veramente tremendo questo campionato, è veramente difficile, è cambiata tantissimo la Serie B, di anno in anno cambia tantissimo e ora penso che sia la stagione più difficile per poter tentare il salto. Dobbiamo stare sul pezzo ogni partita perché purtroppo sono piazze veramente insidiose da dover affrontare e cercheremo di dare il massimo, quello è sicuro. Potevo stare più tranquillo, fare scelte diverse e poi venermi a vivere la Sardegna dopo tanti anni da turista, invece il richiamo del Cagliari è stato troppo forte, sarà emozionante poter vivere certe sensazioni, è qualcosa che non vedo allora che succeda. Ho fatto i miei ragionamenti, ho sentito tanti consigli e alla fine ho deciso di prendermi una responsabilità molto grande e prendere la numero 5 di Daniele Conti. Questo l'ho fatto pensandoci molto bene, sentendo lui al telefono abbiamo avuto una chiacchierata stupenda che mi porterò davvero sempre nel cuore perché è stato felicissimo di poter dare questo numero a me. Quello è qualcosa che mi riempie d'orgoglio e ogni volta che andrò in campo cercherò di dare il massimo anche per lui. Per me avere la numero 5 che di nuovo sta sul campi del Cagliari è veramente un onore.